Oggi è stato il momento di vedere altre ragazze durante il gioco. Molto di tempo abbiamo preso per vincere con tre punti, ora è anche il momento in cui qualcuno deve recuperare. È un'atmosfera della squadra. Tutti devono essere per tutti. Le ragazze servono anche per giocare, a volte non c'è spesso, perché a volte dobbiamo finire il gioco, come in Venezia, sono molto rapidi, sono europei, quindi c'è un ritmo per me. Quando posso giocare anche con altri ragazzi, perché non ho un gioco, sono molto felice di dare la possibilità. Quando mostrano un buon livello, come oggi, sono felice. Grazie mille.